A conclusione di un percorso didattico sulla Shoah promosso dal Consiglio regionale che li ha visti impegnati per alcuni mesi, gli studenti di otto istituti superiori della regione hanno rappresentato con poesie, musica e video gli eventi storici che hanno segnato l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla persecuzione del popolo ebraico. Alla manifestazione per il Giorno della Memoria, che si è svolta a Matera il 27 gennaio, hanno partecipato i ragazzi del Liceo Artistico Musicale, del Liceo Scientifico Galilei e del Nitti di Potenza, dell'Istituto Gasparrini di Melfi, del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera e degli istituti superiori Fortunato di Marconia e Levi di Grassano. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Lacorazza, ha invitato i ragazzi ad essere ambasciatori di pace e di giustizia, militanti contro ogni indifferenza. Ha poi lanciato una campagna promossa dal Consiglio regionale attraverso una cartolina che si può sottoscrivere online perché la città di Matera venga insignita della medaglia d'oro per i fatti del 21 settembre. Nelle prossime settimane una delegazione di studenti parteciperà ad un viaggio della memoria nei luoghi emblematici dell'Olocausto, Auschwitz e Birkenau.